Un'iniziativa che vuole mettere in evidenza il design degli oggetti che hanno fatto l'Unità d'Italia a partire dal 1861. L'iniziativa dell'assessorato alle attività produttive della Regione Marche. Un'iniziativa molto importante che strutturiamo insieme al Centro del Design di Ancona, a Poliarte, e con la collaborazione di tutte le regioni d'Italia. E abbiamo voluto, proprio su input di Pier Lorenzi, ragionare in questo modo, non perché ci rassegniamo una celebrazione, ma perché vogliamo in questo 150esimo anniversario della Repubblica, da una parte, valorizzare e dare il contributo delle Marche, che è la Regione più artigiana d'Italia e ha avuto ed ha una importanza straordinaria nel Paese, in quanto tra l'altro coordiniamo anche le attività produttive, cioè tutti gli assessori regionali alle attività produttive d'Italia per conto della conferenza delle Regioni, abbiamo voluto dare questo contributo, da una parte, per ricordare e per dare il punto su quello che è stato realizzato grazie al talento, al genio degli italiani e al contributo che noi abbiamo dato al mondo, e dall'altra parte anche per dare fiducia ai nostri imprenditori, artigiani, industriali, in un momento di grande difficoltà, perché mettere insieme tutte le cose meravigliose che noi abbiamo saputo fare nelle Marche e nel Paese è un segno di incoraggiamento perché tutti quanti possiamo superare la crisi che in questo momento colpisce l'economia mondiale.